Il discorso è ovviamente molto ampio, ma ci sono due aspetti da guardare. Uno, il fatto che le religioni, poi in particolare quelle dell'area, chiamiamola, abramitica, hanno nei loro testi sacri un linguaggio violento. E questo è un discorso a due facce a sua volta, perché questo linguaggio violento può significare che è Dio a intervenire e a punire e quindi le persone umane non agiscono in nome di Dio. Ma poi può invece significare che le persone umane, in base a quelle indicazioni, siano garantite di agire in nome di Dio e quindi esercitare effettivamente violenza. Ovviamente nelle religioni non c'è soltanto questo, ma senza un'elaborazione del perché questo linguaggio è molto violento, non si ne esce. E perché è molto violento ci sono molte ragioni, ma una delle quali, forse la maggiore, è che è legato al concetto di trasgressione e quindi di punizione. Noi abbiamo nei nostri giorni, proprio in questi ultimi giorni, più che settimane, una nuova presa di posizione del patriarca Kirill sul fatto che chi muore in guerra per la difesa della patria va direttamente nel Regno dei Cieli. È la logica del martirio che noi abbiamo conosciuto negli ultimi anni, soprattutto in ambito musulmano, il shahid, il martire, ma è un martirio legato a due fatti che non sono quelli antichi. E cioè da un lato è un martirio di chi uccide, questo poteva esserci anche all'epoca della Crociata, ma non di chi è ucciso, ma di chi uccide. È ucciso perché sta uccidendo. E dall'altro il fatto che il valore per cui tu offri la vita è la patria, che è un valore secolare e non il nome di Dio.